Ciao ragazzi, in questo video vi rigiro un'informazione su come poter migliorare le prestazioni del sensore Freestyle Libre. Leggendolo praticamente su dei forum inglesi e francesi, ho visto che è una pratica che sta diventando sempre più diffusa, pur non essendo una pratica ufficiale a bot, praticamente sempre più utenti vanno a mettere il sensore 24-48 ore prima di attivarlo, praticamente sparano il sensore nell'avambraccio o nei siti alternativi, il Freestyle Libre ha come sito ufficiale solamente l'avambraccio, sparano il Freestyle Libre mentre hanno ancora quello vecchio e lo tengono addosso entrambi. Quando è il momento di cambiare quello vecchio sono passate 24-48 ore. Che cosa succede? A detta di moltissimi utenti che stanno facendo questa pratica, dice che il sensore risulta essere più preciso. In effetti, se voi andate a leggere le caratteristiche, c'è scritto che quando voi attivate il sensore potranno essere necessarie un tot di ore, 24-48 ore, prima che dia le letture corrette. E praticamente, mettendolo prima, avete due vantaggi. Uno che gli dà del tempo senza far scadere i 15 giorni per assestarsi, perché il sensore una volta che va messo dentro poi deve essere in qualche modo assorbito dalla pelle che sta sotto. Quindi, quando lo attivate, ci sarà quell'ora d'attesa per l'attivazione, ma parte direttamente con questo lavoro di assestamento già fatto. E quindi, non avete due giorni di letture così così e 13 giorni di letture buone. Partite direttamente con le letture buone. L'altro vantaggio è che se lo mettete a un bambino, siete certi di poterlo mettere sempre di notte. Quando voi sapete che manca uno o due giorni alla scadenza, non aspettate che magari vi scade di pomeriggio un orario in cui è sveglio. Io lo faremo ad esempio in un orario in cui sta completamente dormendo e in questo modo neanche si accorgerà che gli state mettendo il sensore. Quindi, un trauma in meno, avrete sempre la certezza di fare l'operazione durante la notte. Poi, quando scada, a qualsiasi ora scade, si prende e si attiva l'altro. Addirittura, se avete due diversi lettori freestyle libre, potreste attivare il secondo un'ora prima che scade l'altro e quindi non avere l'ora di buco, diciamo. E quindi questa potrebbe essere un'altra strategia ancora. In questo caso però si perderebbero, diciamo, tutto lo storico su un unico freestyle libre perché lì ci rimangono i dati anche delle settimane e dei mesi scorsi. Però potrebbe anche questa essere una strategia che porto ad utilizzare questo metodo qua. che vi ripeto non è un metodo ufficiale, però mi andava di riportarvelo in un video perché leggo, l'ho letto una, due, tre, quattro, sette volte cercando in giro informazioni e molti di questi che lo scrivono, dicono che lo stanno facendo da tempo con ottimi risultati, quindi ho voluto rigirarvi queste informazioni. di mettere il sensore 24-48 ore prima e poi attivarlo quando poi dopo ci sarà il bisogno che scade quello precedente. In questo modo partirà sin da subito con le letture buone. C'è chi afferma che indipendentemente dalle prime giorni proprio risulta tutta la vita risulta più precisa. Però provatelo e semmai fatemi sapere nei commenti com'è andata. Ciao ciao! Ciao!